Quasi 40 anni fa il 13 maggio 1978 fu approvata la legge 180, una vera e propria rivoluzione nel campo della psichiarria che, come sappiamo, determinò la chiusura dei manicomi. Nota come legge Basaglia, si può dire che abbia effettivamente segnato una svolta epocale, ma a distanza di tempo necessita non tanto di una riforma, ma di una integrazione. Ne parliamo oggi dandovi il benvenuto con il nostro ospite l'onorevole Ezio Casati del Partito Democratico, membro della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, che è primo firmatario di un disegno di legge soprannominato 181, proprio per dare l'idea della continuità con la 180, ma che in realtà è il 2233. Ce ne vuole illustrare le linee guida? Innanzitutto ringrazio per l'invito, saluto i telespettatori. Che dire, la 180 è stata sicuramente una legge che ha rivoluzionato il mondo della salute mentale in maniera positiva, ha chiuso i manicomi, ha dato prospettiva e speranza. Io ho raccolto quello che era l'eredità della 181, fatta da movimenti, parole ritrovate in testa su tutti, che si sono impegnati a diffondere una proposta di legge di iniziativa popolare. Io, invitato e caduto per caso, non per caso, ma perché invitato a partecipare, mi sono letto la legge e ho detto che probabilmente valeva la pena che questa legge avesse risalto parlamentare, quindi l'ho sottoscritta io. Assieme a me in questo momento circa 50 parlamentari, quasi tutti del mio gruppo politico, quindi il Partito Democratico, l'hanno sottoscritta. Che dice la legge? Sottolinea una serie di concetti che partono da un termine che è il fare assieme. Vuole far sì che chi è malato possa contribuire, che chi è familiare possa aiutare a risolvere i problemi di salute, a puntare a tutte quelle questioni che un cittadino malato ha diritto di avere. Quindi, uguaglianza rispetto agli altri cittadini, capacità di essere reinserito nel mondo sociale al termine di un percorso di cura e soprattutto che gli innesti quella fiducia e quella speranza nelle istituzioni, nella sanità, nella salute, in sé stesso e negli altri che possa aiutarlo. Dove porta? Porta alcune, per la brevità che mi consente il momento, porta alcuni principi che sono fondamentali. La prima tra tutte a sottolineare è la vicenda di valorizzare il valore esperienziale. Quindi c'è un termine che è riportato all'articolo 5 della legge che parla degli UFE, utenti familiari esperti, che non sono oggetti non meglio identificati, ma che sono assolutamente identificati. Io mi sono così avvicinato alla convinzione, questa è una figura che potrebbe veramente aiutare molto, pensando a tutto ciò che fa il potere esperienziale nel mondo della dipendenza. Quante comunità che si occupano di dipendenza portano con sé il valore esperienziale, la testimonianza per dire tu in questo momento stai vivendo questo problema, l'ho vissuto anch'io e l'ho superato in questo modo, quindi con un'alleanza forte tra chi nella malattia c'è passato e ne è uscito e chi nella malattia c'è e vuole uscirne. Ci sono poi moltissimi altri aspetti, però se vogliamo cominciare qui poi aspetto lei se ha qualche curiosità in più. Tra l'altro l'occasione di incontrarla è dovuta proprio alla presentazione di questa proposta a Firenze in Toscana, su iniziativa oltre che delle parole ritrovate, il movimento che citava prima, ma anche di progetto Itaca Firenze, l'associazione volontari per la salute mentale, cui slogan è per la mente con il cuore. C'è un'apertura al contributo di chi già lavora, sia a livello di volontariato che come persone coinvolte, familiari, proprio anche al fornire ulteriori sottolineature, ulteriori suggerimenti per questa proposta di legge? Io innanzitutto ringrazio l'associazione Itaca per l'opportunità che mi viene data, innanzitutto per ritornare a Firenze, città meravigliosa, ma soprattutto per condividere con un altro passaggio, perché io penso che questa sia una legge che ha bisogno di essere condivisa e quindi tutti i momenti di approfondimento che vanno dall'illustrazione al dibattito, al contributo che poi viene a tutti, ci permette di approdare presto, spero presto, in aula con un percorso condiviso dove ognuno ha la possibilità di dire quello che pensa, di dire quali sono i punti favorevoli, i punti nei quali c'è bisogno di un chiarimento maggiore, dove esplicitare meglio le condizioni, però direi che questi momenti sono proprio indispensabili per approfondire, per meglio divulgare questa vicenda, questo è insieme ai movimenti che sostengono questa legge, questo sarà penso il trentesimo appuntamento, l'ultimo fra 15 giorni sono a Parma, quindi c'è proprio la volontà di diffonderlo e questa volontà è quella che io immagino nel percorso legislativo, quello di avere un tavolo di confronto con chi rappresenta il mondo della salute elementare, dagli operatori al servizio infermieristico, agli utenti, ai familiari, in modo tale da fare un percorso condiviso per far sì che una legge sia condivisa da chi è il soggetto della cura e chi è il soggetto della prestazione della cura, quindi la salute mentale ha numeri importanti, in Italia 1.500.000 persone ne soffrono con disturbi lievi o con disturbi gravi, abbiamo tutto un mondo sconosciuto, quello di chi non trova il riscontro di una famiglia che gli sta a fianco e quindi lo aiuta a sopportare la sofferenza, penso per esempio alle centinaia di migliaia di senza dimora, l'80% dei quali sono affetti dal disagio di sofferenza mentale, quindi è una legge che vuole portare alla dignità del paziente tutti gli altri, quindi io non vorrei alla fine di questa esperienza politica aver siglato una legge che permette di dire che la salute mentale non è ancora sottoscritta dallo stigma e dal pregiudizio, che questo è il matto del quartiere e quindi va lasciato in un angolo e non coinvolto nella società e in questo pezzo le scuole, i luoghi di educazione, i luoghi di formazione sono assolutamente indispensabili come sono indispensabili le associazioni che sul territorio si spendono, si spendono meravigliosamente a sostegno, in un momento debole, in questo momento la spesa sanitaria per la salute mentale è di circa il 3%, quindi circa 4 miliardi di Euro, che sono spesi secondo me in maniera non corretta perché si tutelano di più i ricoveri e le comunità d'alta protezione rispetto all'efficacia della territorialità, io penso che se uno soffre in 24 ore massimo bisogna dargli risposta, se aspetti qualche giorno può essere troppo tardi, da lì scaturiscono i trattamenti sanitari obbligatori che vanno attuati con cautela e laddove possibile non eseguiti, ma che portano con sé non un progresso nella cura, ma a volte dopo il ricovero ci troviamo una regressione della cura, quindi occorre maggiore territorialità, dare così compietezza ai servizi territoriali perché abbiano luoghi accoglienti dove ricevere le persone e abbiano con sé tutta quella attenzione che i malati di salute mentale, che altrimenti scaricano tutte le loro problematiche all'interno della famiglia creando un problema anche sociale. Ecco, la bellezza dei luoghi di cura è una delle caratteristiche che abbiamo notato infatti, perché attualmente il ricovero avviene nella struttura ospedaliera, ma dopodiché non sempre c'è questa capacità anche dei servizi di mantenere il contatto con il paziente, specialmente con quelli più refrattari e non ci sono magari strutture o possibilità adeguate, diffuse su tutto il territorio in modo uniforme. Certo, io penso che è soprattutto anche una questione di dare il giusto trattamento sanitario a chi soffre, se andiamo a verificare, nella maggior parte dei casi poi ci sono eccezioni meravigliose, che sono l'esempio che noi vorremmo portare in tutto il paese, che solitamente i luoghi di cura della salute mentale sono isolati, in luoghi faticenti, che portano tristezza soltanto a guardarli uno che sta bene, uno che ne è sofferente e ancora più così inadeguato. Se siamo in un luogo dove il colore è presente, dove l'accoglienza è calorosa, dove la risposta è rapida e veloce, dove dall'altra parte della scrivania, magari come primo impatto, anziché un camice bianco, ti trovi una figura che ti dice, guarda, al familiare ti dice, guardi non si preoccupi, il suo figlio sta male, però io ci sono passato perché c'è stato male il mio figlio, ho fatto così, 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 ho incontrato le difficoltà, ma ci siamo arrivati, tutti trovano quella fiducia, quella speranza che trovate nel testo della legge se volete andarla a scaricare e a leggervela. Bene, un'ultima cosa, c'è una prima accoglienza, una prima condivisione da parte degli altri gruppi parlamentari, lei ha detto che tra i firmatari ci sono per la maggior parte esponenti del suo partito, ma c'è speranza di unitere anche veloce, di accordo con le opposizioni? Io penso che questa sia una legge che può portare con sé molto consenso, certo c'è una visione per alcuni gruppi, io ho in mente, insieme al mio disegno di legge ce n'è un altro che ha come firmatario l'onorevole Rondini che è della Lega Nord, dove si parla di TSO che vanno dai 180 ai 360 giorni, è chiaro che un contesto di questo genere non può essere assimilabile ad un mio progetto di legge, io penso che bisogna umanizzare la cura e umanizzare il percorso della cura, bisogna coinvolgere tutti, dall'altra parte se uno vede chi soffre di salute mentale come un pericolo per la società, quindi la cura sicuritaria io penso non ci sono punti di contatto, ma penso che trasversalmente si può trovare condivisione, ci sono altri gruppi sempre della maggioranza che hanno sottoscritto, penso a parlamentari di scelta civica, l'hanno fatto, il secondo firmatario è un parlamentare di scelta civica, quindi non è proprio all'interno di… devo dire che io non mi sono in questo momento dannato l'anima per trovare le firme anche di altri parlamentari di altra vicenda, sono però assolutamente il percorso che mi porta un po' in giro in tutta Italia a condividere con i territori, con chi non ha questo problema, questo percorso mi è da scuola per dire anche alle altre forze politiche mettiamoci assieme, facciamo un'alleanza importante, mi pare che io non voglio mettere la bandierina sulla vicenda, voglio mettere chi soffre di salute mentale nelle condizioni non privilegiate, ma degli stessi diritti che hanno gli altri malati. Bene, con questo ringraziamo l'onorevole Ezio Casati e augurandogli un buon iter per il disegno. A settembre penso che la Commissione comincia a lavorarci e prima dell'anno potremmo portarla a casa. Benissimo, con questi auguri vi diamo appuntamento alla prossima volta. Grazie. Grazie.